Musica Lei ha beneficiato di tutti i benefici senza partecipare? Le confesso di sì Ho capito, perché la prima cosa che hanno fatto hanno adeguato le 800 lire anno a un euro all'anno, il 200% in più Retroattivamente dal 2001, aggiungo io Il 200% in più Sì, parecchio I cittadini cosa devono pensare di queste cose? Guardi, le faccio un esempio banale La Margherita col vecchio sistema avrebbe preso 5 miliardi di vecchie lire Se lei pensa alla provvista infinita che ha Forza Italia Io credo che bisogna che i cittadini capiscano che la politica per essere equa ha bisogno di dare risorse a tutti per poter far politica C'è un problema di etica della politica, se noi pensiamo che la politica si faccia con i fichi secchi non è vero Questo contributo di autostrade, voi lo avete ricevuto, loro vanno dato e voi ve lo siete presi Ma non è un po' anomale questa società, questa concessionaria che dà soldi a tutti i partiti e che poi magari qualcuno si lamenta che non fa investimenti? Lei come lo aveva? Guardi, intanto io tendo a scindere i piani della questione Certo, se il soggetto che eroga un contributo alla Margherita, come dire, avesse compiuto atti o fatti poco lecidi Probabilmente un problema etico ce lo saremmo posto e non l'avremmo accettato Non ci sembra che rientri in questa fattispecie autostrade No, perché per esempio io sono stato in Spagna, noi facciamo un confronto con la Spagna sul finanziamento pubblico A Bertis per esempio ufficialmente non potrebbe finanziare i partiti Però lei legge anche i giornali, vede che ogni tanto vengono fuori questi appalti pilotati C'è coinvolgimento dei politici, tra l'altro sono notizie che purtroppo vanno sempre in pagine Dico, esiste un problema? C'è un problema secondo me, c'è un problema di etica della politica Se sono soldi pubblici, il problema è doppio, perché sono soldi che vengono dall'imposizione fiscale Sono soldi dei cittadini Se ci sono dei politici che utilizzo in un modo non onesto, non etico è differente da non onesto Ma non onesto, le contribuzioni che loro derivano, io auspico che la magistratura faccia il loro dovere Il problema dell'etica invece è leggermente diverso Perché c'è un profilo di opportunità, non un profilo di liceità Noi abbiamo un problema etico, ce lo poniamo e mi sembra che siamo rispettosi di questa dimensione Per cui per lei è comunque accettabile che chi vive di finanziamenti pubblici Ditte, oppure società, oppure chi ha appalti pubblici possa finanziare un partito, è lecito per lei? Allora, la domanda è leggermente delicata Insomma, lei diceva che con la vecchia legge prendevate 5 miliardi all'anno di vecchie lire Con la nuova ne prendete 40 Sì, quasi quintuplicate Non bastano mai questi soldi? Per noi bastano Per noi bastano, ho l'orgoglio di dire che per noi bastano, non avanzano, bastano La domanda è leggermente difficile